Ciao, mi chiamo Liliana, ho 23 anni adesso perché ieri era il mio compleanno. Sono taiwanese di Taipei, la capitale di Taiwan. Taiwan è una isola piccola ma bellissima. Si trova nel Rosiano Pacifico, a est della Cina, al sud del Giappone e al nord delle Filippine. Siamo in quattro in famiglia, i miei genitori, la mia sorrera maggiore e io. Adesso mia sorrera vive in Germania per studiare, quindi abito solamente con i miei genitori. Abitiamo in un appartamento piccolo ma molto accogliente. Amo tanto questa casa perché è silenziosa la sera e abbastanza pratica. Ci sono vari autobus per andare in centro. Di aspetto sono un po' bassa, ho i capelli lunghi, lisci e neri. Porto gli occhiali perché sono mioppe da molti anni. Di carattere sono amichevole e simpatica ma a volte un po' piccola. Sono studentessa del dipartimento francese ma studio anche l'italiano. Parlo quattro lingue. Il cinese come madrelingua, l'inglese, il francese e l'italiano. Ma non lo parlo bene perché è una lingua molto difficile. Per me l'italiano è ancora più difficile del francese. Adesso studio anche il giapponese perché amo tanto viaggiare in Giappone. Nel tempo libero amo viaggiare all'estero. Ho già visitato più di venti paesi. Tra loro il mio paese preferito è l'Italia perché i paesaggi e i cibi sono buonissimi. Ho deciso di studiare l'italiano anche per questa ragione.